Buonasera e ben ritrovati al consueto appuntamento con la voce delle istituzioni, gradito ospite in studio il direttore generale della ULS numero 1 Dolomiti Adriano Rasi Caldogno che saluto e ringrazio per dedicare tempo anche a questo spazio di informazione peraltro penso utile ma diciamo che sono tempi sempre molto complicati, questo mandato è stato caratterizzato da un sacco di eventi importanti e gioiosi ma anche da molti particolarmente probanti anche per tutta l'organizzazione stiamo parlando naturalmente del Covid, anticipato che tutto quello che viene detto può cambiare il giorno dopo perché è una situazione quanto mai in evoluzione cerchiamo comunque di fare il punto fermo ad oggi c'è questa nuova stagione autunnale che porta con sé due problematiche la prima è il ritorno del Covid e la seconda la campagna anti-influenzale e in molti settori, in molte d'estate si mettono appaiate, il motivo è giustificato oppure no? ma sicuramente l'adesione a una campagna di vaccinazione anti-influenzale è ben giustificato direi comunque e in particolare in questo periodo perché in questo diciamo vaccinandosi almeno per le categorie che sono state individuate come prioritarie si viene a ridurre di molto la possibilità anche, diciamo così, di far insorgere diciamo dei dubbi sulla natura di eventuali sindromi influenzali i sintomi del coronavirus, del Covid-19 e i sintomi influenzali molto spesso possono anche confondersi e diciamo con una vaccinazione anti-influenzale sicuramente la possibilità di contrarre un'influenza naturalmente diminuisce di molto e quindi è assolutamente consigliabile in questo periodo procedere per le categorie previste alla vaccinazione ricordo che quest'anno oltre naturalmente ai bambini fino ai sei mesi ai sei anni di età da un lato oltre a tutte le categorie diciamo che in ragione delle patologie di cui queste persone siano portatrici sono individuate come diciamo categorie potenzialmente a rischio quest'anno la regione ha ampliato diciamo il gruppo di persone diciamo di una certa età che hanno diritto alla vaccinazione gratuita quindi si passa da 65 a 60 Esatto, non più oltre i 65 ma da 60 anni in su c'è la possibilità di avere questa vaccinazione a titolo gratuito spesata dal fondo sanitario regionale E verrà fatta anche questa vista il grande peso che c'è in questo momento sulle strutture sanitarie con la formula del drive-in che è vincente Sì, diciamo che per alcune tipologie di vaccinazione quelle prese in carico da parte del Dipartimento di Prevenzione questa vaccinazione potrà essere fatta anche con la modalità drive-in che è stata già ben sperimentata nella nostra azienda per quanto riguarda il forte recupero che c'è stato per le vaccinazioni contro la TBE quindi contro il morso da zecca per capirci e ormai da due mesi almeno viene utilizzata correntemente questa modalità drive-in per quanto riguarda i tamponi sia quelli molecolari i tamponi ormai possiamo dire tradizionali sia anche adesso per i tamponi rapidi per tutte le persone che sono rientrate dai paesi esteri per cui era necessario ed è necessario tuttora essere sottoposti a tampone piuttosto che dal 10 settembre da un notevole numero di persone di giovani, di bambini che siano affetti da sintomi simili covid e per, diciamo così, secondo il protocollo per poter avere poi accesso a scuola devono essere sottoposti appunto a uno screening, a un tampone a tolte queste categorie quindi da 0 a 6 anni da 60 in su dove c'è il servizio sanitario che interviene tutti gli altri devono prendere la decisione di poterlo fare sì, gli altri diciamo hanno la possibilità per i bambini di rivolgersi ai pediatri di famiglia ai PLS mentre per gli over 65 dovrebbero essere appunto i medici di medicina generale i medici di base a procedere alle vaccinazioni come di consueto per quanto riguarda appunto anche il discorso che stavamo facendo dei drive-in ricordo anche che sono stati e tuttora sono usati anche in maniera massiccia per tutti i tamponi non solo ad accesso libero come quelli di cui parlavamo prima ma anche tutti i tamponi anche programmati e quindi è una modalità assolutamente efficiente da un lato e anche che garantisce la massima sicurezza sia per l'utenza che per quanto riguarda anche il nostro personale sanitario che deve procedere all'attività di tampone la vostra organizzazione continua a subire delle modifiche in ragione di queste situazioni che vengono a crearsi c'è il ritorno del virus anche perché sono iniziate le scuole e qui siete chiamati nuovamente in causa anche per dare risposte rapide perché molti si allarmano per i tempi molto lunghi e quindi le difficoltà in famiglia Sì, sicuramente questa è una delle aree anche di questo periodo sicuramente di maggior impegno da parte di tutta la nostra struttura da parte di tutto il servizio di igiene e di sanità pubblica ricordavamo prima la possibilità di avere questo accesso diretto libero ai drive-in attualmente tutti i drive-in presenti nella nostra provincia cioè Belluno, Feltre Tai di Cadore e Caprile nella Gordino hanno tutti la possibilità di svolgere diciamo attività con il tampone cosiddetto rapido è un tampone che consente utilizzato per lo screening che consente di avere una risposta nel giro di poche decine di minuti naturalmente in caso di eventuale positività al tampone stesso tampone rapido viene immediatamente proposto invece un tampone cosiddetto molecolare per il quale è necessario poi attendere dei tempi ben maggiori perché la processazione del tampone stesso impone diciamo così proprio dei tempi tecnici ben maggiori senta prima che il virus prendesse la prima posizione questo palcoscenico di informazioni la tematica che gravava forte sulla struttura dell'urse era quella dell'assenza di personale ora io faccio la somma delle due problematiche siete riusciti a risolvere questa questione in base anche alle nuove esigenze che si creano oppure questo è un problema che si somma? purtroppo è un problema che in qualche misura si somma perché diciamo noi siamo riusciti a far fronte a questa emergenza con anche degli strumenti di natura sicuramente straordinaria di assunzione anche temporanea di personale soprattutto per quanto riguarda il personale del comparto e quindi parliamo di infermieri parliamo anche di operatori sociosanitari piuttosto che assistenti sanitari con più fatica abbiamo trovato diciamo così dei medici da inserire all'interno di alcune strutture neonate come le cosiddette USCA che sono delle unità diciamo di intervento sul territorio che sono state create a seguito di questa emergenza permangono purtroppo direi purtroppo i problemi in molte specialità adesso senza elencarle tutte per non far torto diciamo così a nessuno vi assicuro che la difficoltà comunque nel reperire specialisti in molte specialità è veramente uno dei cruci maggiori e ancora certamente non è risolto di positivo c'è stato che finalmente a seguito anche di questo momento di grande emergenza un momento in cui finalmente anche alla sanità è stata data credo l'importanza la sanità pubblica è stata data l'importanza che merita finalmente il governo ha anche deciso di aumentare il numero delle borse di studio per l'ingresso nelle specialità questo è sicuramente un buon segnale però avremo dei frutti concreti solo tra alcuni anni e nel frattempo ci sarà un guado da attraversare un guado di alcuni anni sempre di difficoltà nel trovare specialisti poi soprattutto in provincia di Belluno dove sembrano siamo particolarmente attrattivi ora le chiedo domanda e risposta altrimenti non riesco a farle tante altre domande la prima è le unità di terapia intensiva possono reggere facilmente a questo probabile nuovo urto? le unità di terapia intensiva di Belluno e di Feltre che sono deputate anche ad essere i riferimenti proprio per questa emergenza Covid oltre alla dotazione di posti letto già ordinari e già previsti prevedono anche l'attivazione di ulteriori posti letto una prima diciamo addizionale una prima trance di sette posti letto a Feltre è in corso di allestimento e quindi è questione veramente di giorni che sia pronta e diciamo più in prospettiva è prevista anche è previsto l'allestimento di ulteriori 12 posti letto però a seguito di alcuni lavori che dovranno essere svolti all'interno di un quadro di intervento della protezione civile nazionale e del commissario Arcuri a questo sarebbero definitive ma ci sono anche delle soluzioni modulari a fare fronte all'emergenza? lo stiamo già diciamo i nostri ospedali si stanno già organizzando con un piano di espansione via via che dovesse montare il numero di ricoverati finora fortunatamente abbiamo avuto una crescita in vero anche non banale di ricoveri nell'area subintensiva cioè malattie infettive e pneumologie finora sulla terapia intensiva non si è verificata una grossa pressione e adesso già è in funzione un piano di espansione via via che questa marea montante e speriamo che non monti troppo ci costringa ad attivare nuovi posti letto un appello penso che sia giusto che lei lo faccia riguardo all'impegno di tutti noi di prendere seriamente in considerazione il vaccino anti-influenzale perché non è che ci sia poi questa grande adesione sia stata questa grande adesione negli anni precedenti sicuramente per le categorie individuate la raccomandazione è sicuramente forte in verità abbiamo avuto già dei primi segnali direi anche di confortanti rispetto alla prima risposta già rispetto alle categorie su cui abbiamo proceduto già alla chiamata per cui io credo che quest'anno la consapevolezza da parte della popolazione sarà sicuramente ben maggiore andiamo adesso su alcuni lavori qua le chiedo di essere estremamente sintetico base EMS su un aggiornamento EMS si intende la base dell'elicottero a Pieve di Cadore i lavori vanno avanti i lavori stanno procedendo in maniera anche molto rapida stanno procedendo adesso con dei lavori importanti di palificazione e di micropali e quindi il cantiere è a pieno regime la data di fine dei lavori perché nel frattempo sarà spostata a Belluna la base sì il tempo previsto è di 300 giorni dall'inizio del cantiere il cantiere è iniziato i primi di settembre per cui diciamo a fine primavera dell'anno prossimo dovrebbe essere completato ne ha dovuto prendere posizione svariate volte riguardo alle attività all'ospedale di Agordo compreso il pronto soccorso che è stata una risposta data dalla regione attraverso la ULS sì certamente il pronto soccorso di Agordo adesso è stato finalmente aggiudicato anche l'appalto qualche tempo fa e il cantiere dovrebbe partire proprio a giorni quindi nel corrente mese di ottobre dovrebbe iniziare proprio il cantiere di ristrutturazione del pronto soccorso di Agordo direi anche finalmente perché la conca gordina merita di avere un pronto soccorso all'altezza degli altri ospedali della nostra ULS io da uno sguardo al progetto mi sembrano lavori piuttosto importanti che richiederanno anche pazienza da parte degli utenti che i disagi non mancheranno i disagi non mancheranno però saranno molto contenuti perché tutta l'organizzazione del cantiere contempla la necessità di contemperare il cantiere stesso con la continuità dell'esercizio senterei a fine mandato il 31 di dicembre scade il suo impegno come direttore generale ma riesce a far partire due lavori o comunque i progetti sono molto avanzati all'ospedale di Lamont che ha un lavoro di 5 milioni 5 milioni di euro complessivi di investimento e anche in questo caso diciamo si è completato il progetto adesso è stata bandita anche la gara ha avviata la gara per l'appalto dei lavori stessi per cui io confido che all'inizio dell'anno 21 sarà possibile vedere proprio il cantiere che partirà e l'ospedale di Lamont è un ospedale di eccellenza di riferimento in tutto il Veneto per la riabilitazione è il polo provinciale per la riabilitazione ed è uno dei punti di eccellenza della rete Veneta e ne abbiamo anche riscontro guardando diciamo annualmente quello che è anche il saldo di attrazione che Lamont ha nei confronti di molte altre strutture e tutto questo dal punto di vista economico pesa? dal punto di vista economico certamente ma è anche un riconoscimento sicuramente alla professionalità e all'efficienza di quello stabilimento ospedaliero cifra enorme sarà spesa per l'adeguamento antisismico e antincendio della San Martino certamente anche questa diciamo è una iniziativa che vedrà la luce l'anno 21 abbiamo proceduto nel mese scorso all'affidamento di tutta la progettazione dell'adeguamento stesso è anche un incarico molto importante sotto molti punti di vista dovrà essere terminato all'inizio di questa progettazione all'inizio dell'anno 21 e quindi confido che confido che sarà possibile anche dare il via dopo l'appalto dare via i lavori già nel 2021 nella seconda metà del 2021 questa sarà un'opera particolarmente importante per dare diciamo così consolidare e dare molta sicurezza a San Martino suppongo che andrà per stralci perché è enorme e lo stabile beh certamente anche anche in questo caso dovrà essere organizzato il cantiere tenendo conto delle esigenze della continuità di esercizio questo è diciamo inevitabile qualora degli interventi anche significativi vengano effettuati in ospedali che devono mantenere per evidenti motivi la costanza di esercizio peraltro proprio anche in questo periodo è in corso un cantiere ben più ridotto di dimensioni presso il corpo di collegamento all'ospedale di Feltre proprio per l'adeguamento per il miglioramento antisismico e tutto questo avviene in costanza di esercizio c'è qualche disagio ma insomma l'attività continua senza soluzione di continuità a questo punto aiutano i lavori che si possono fare a casa ci si rende conto che anche un piccolo lavoro può portare dei disagi a queste dimensioni è ancor più comprensibile il tempo purtroppo è terminato a disposizione siamo stati con Adriano Rasi Caldogno direttore generale dell'Ulss numero 1 Odolomiti a cui non posso che augurare buon lavoro naturalmente augurando la direttore generale accaduta a tutti gli operatori che sono quanti? sono circa 3.500 dipendenti più tutto più un numero molto consistente di persone che lavorano con rapporti di servizio oppure con incarichi di varia natura altre centinaia e centinaia di persone grazie a Adriano Rasi Caldogno grazie a voi per averci seguito buona serata grazie a tutti